Ciao ragazzi dal vostro Cataldo Pugliese, torno all'appuntamento con Cataldo vs Partito Online questa volta vi gioco l'accesso al quinto grado perché infatti poi domani finisce ci saranno nuovi eventi e quindi finisce la campagna di queste partite online siamo giunti al quinto appuntamento, speriamo di trovare una partita molto equilibrata e bella ragazzi come quella di ieri, magari anche di più, noi ce la mettiamo tutta, siamo pronti a farvi divertire il gioco sta caricando diamogli tempo di fare il matching e comincia lo spettacolo ragazzi vi ricordo che sono disponibile per qualsiasi aiuto riguardo il gioco di Captain Tsubasa Dream Team ah già c'è Burnak Dreamfest in difesa questa è la mia formazione dietro la webcam, non vedete Snyder e questa è la sua, buon portiere, Misugi Dreamfest e Dreamfest anche Burnak vabbè, bella formazione si prospetta una partita equilibrata cominciamo noi, calcio d'inizio, allora andiamo palla con Diaz, Diaz non mi piace Misugi, Olli, diamo la rival allora Misugi Dreamfest superato Diaz superato palla a rival perfetto allora davanti c'è Gentile che c'è il blocco d'Antigra dove è se uno però io lo provo lo stesso il tiro e dovrebbe anche passare raga vediamo un pochettino allora tocca ma non la ferma palla verso il portiere Hernández Gino Hernández ragazzi parata a una mano C25 e gol grazie ha sbagliato parata chiederei di potermela parare con la tecnica C anche se quella è molto forte come tecnica ma rival è rival 1-0 all'ottavo minuto partenza ok adesso però la palla ce l'hanno loro questa la prevede una partita più più equilibrata ragazzi e anche se l'abbiamo sbloccata subito ma sarà molto più equilibrata questo ne sono certo andiamo avanti Zaragoza a balla al piede passaggio vediamo se la prende Snyder si e vabbè faccio un tiro da qui poi raga giusto per fiaccare un po' il portiere perché so che non entrerà ma e poi mai ecco il tiro di fuoco di Snyder raga la prossima partita porta a Napoleon Napoleon Dreamfest vola in aria gentile palla ancora in port allora questo è un portiere che ha delle tecniche che consumano anche poco vediamo adesso che parla da fa sembra il C25 ma questa volta dovrebbe andare in porto credo almeno vediamola si infatti è così ripartono l'oro adesso invio di Gine Hernandez Burnack balla la piede pressiamo 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 la data Pascal allora vediamo Pascal contro il mio olio ovviamente vediamo Pascal cosa c'è c'è un passaggio in principio l'S2 andiamo in intercettura ma probabilmente va dove deve andare a fare questa palla vatti fa il passaggio invincibile a vuoto Olli a vuoto anche nel mese oggi ha attivato il power c'è un attenzione ragazzi attenzione attimi di terrore tra virgolette scherzo perché qua vediamo ah tiro di fuoco gemello guidato S3 ecco questo è Snyder quello col tiro potente vabbè metto il blocco dei super riflessi è un contrasto ad occhio di Diaz perché non può fare altro Diaz vediamo se regge il blocco dei super riflessi del nostro PR ragazzi vediamo ecco che parte il loro Snyder in coppia con Olli tiro di fuoco guidato gemello S3 vola in aria Snyder vola in aria Diaz posso attivare il power shot però lo attivo ma tiro 15.000 raga non lo so ci provo ma vediamo ecco il portiere al Zdeco è bucato gol 1-1 pareggiano ragazzi lo sentivo avevo il sentore che questa era una partita equilibrata pareggio al 25esimo minuto di Courmo si chiama questo mio avversario di oggi beh partita equilibrata bene bene è quello che volevo perché ve l'ho detto voglio partita equilibrata almeno vi divertite di più anche voi Diaz palla al piede la do direttamente a Oli Oli la diamo a Rival cerchiamo di fare la stessa azione di prima Pascal a vuoto Snyder a vuoto vediamo se la palla termina si tra i piedi di Rival non mi interessa chi c'è davanti tiro tiro del falco celeste di Rival vediamo un po' chi c'è davanti allora c'è Diaz contro la storia della crisi che si salta tiro vediamo un attimo mi suggerì Dreamfest blocco in salto ma l'ho l'ho bucato diciamo l'ho superato a vuoto anche Gentile ovviamente e adesso vediamo come si comporta Hernandez deve avere una parata perfetta parata perfetta S13 raga qua devo tirare fuori una bella strategia gol intanto però il gol entra perché perché eravamo di powershot il gol entra lo stesso al 33esimo ci riportiamo in vantaggio per 2 a 1 però qua raga dovrò stare molto attento in questa partita la partita è lunga è lunga e l'avversario è veramente in gamba cioè più che altro giocatori buoni io cercherò di vincere in una linea tecnica questa partita dovrò per noi adesso palla al piede per loro con Oli Oli è la Dias Dias dire palla andiamo subito in pressing con il rival niente di che Dias ha dribbling sudamericano io vado di contrasto semplice perché la difesa sottomarina non la spreco con il rival ragazzi mi dispiace ma lo fermo di contrasto infatti ragazzi ok palla al piede rival rival può ancora tirare rival tiro del falco celeste vediamo un pochettino siamo nel cerchio di centro campo quindi probabilmente già questo è più difficile che entri rival tiro il solito gentile che va a vuoto e poi ecco il duello che si rinnova con Gino Hernandez vediamo un po' ragazzi prevedo una parata perfetta S13 dice ci sta pensando ci sta pensando chiaro che per lui è fondamentale non sapere quella adesso parata C25 vediamo la parata ho detto che comunque era una buona tecnica di parata quella ragazzi va bene il tiro era del centro campo si resta sul 2-1 per noi palla per Hernandez Hernandez alza la gozza passaggio dovrei prenderla questa sì già con Snyder non è a fare un tiro sì ah no è finito il primo tempo non me l'hanno fatto fare va bene ragazzi bellissima partita equilibrata non vedete tra poco lo vedrete comunque lo stesso perché dietro la webcam metto Mark Lenders a posto di Snyder da domani nelle partite ci sarà Napoléon ragazzi questi due li dovrò un po' accantonare eccolo qua l'ingresso di Snyder è evidente che ragazzi è evidente che l'avversario comunque adesso parta per la piede vediamo Misugi Misugi Dreamfest vediamo un pochettino è solo il passaggio guidato e quindi io l'intercetto passaggio guidato che la dog dovrebbe essere una buona tecnica di passaggio vediamo vediamo ragazzuoli e basta infatti allora vediamo un pochettino a vuoto a vuoto a vuoto il giocare non lo gioca male lui ok si rinnova il duello tra il mio Snyder tra il mio PR e il suo Snyder tiro tiro di fuoco gemello guidato questo è un tiro molto forte raga S3 eh grande PR ci salva PR si resta sul 2 a 1 al momento grande intercettazione di PR col blocco dei super riflessi che ci consente di mantenere il vantaggio a questo inizio secondo tempo allora adesso la diamo a rival come al solito dovrebbe passare sì dovrebbe passare andiamo più vicino perché Rival stava dormendo si è risvegliato meno male allora tiro del falco geleste e a meno che non attivi il power shot è l'ultimo della partita sì ma credo che da qui alla fine del power shot lo attiverà di nuovo intercettazione forzata di Zaragozza che va a volare in aria blocco Dandì di Gentile che non la prende vediamo attiva il power shot bravo bravo è stato bravo D bravo è stato bravo parata perfetta S13 la inchioda lì va bene si resta sul 2-1 per noi adesso però loro nel power shot devo fare attenzione vediamo sul capovolgimento di fronte cosa riuscirà a fare l'avversario palla per Ghiito Ghiito per la piede ok la dà vediamo se l'intercetto con Diaz neanche per idea va bene palla per Olli anzi Snyder prende palla Snyder passaggio vediamo se la prendo con Misugi no palla a Diaz ok io ho aspettato attivare il power shot un pochino ma adesso lo attivo il blocco dei super riflessi raga perché lui c'è la rovesciata di fuoco tecnicamente aperta di power shot non dovrebbe passare vediamo vuole in area PR ragazzi questo non me lo sarei mai aspettato onestamente vediamo se il Condor ci salva novecento di fuoco il Condor vola verso la palla pareggio ragazzi bellissima partita hanno pareggiato due a due ragazzi al ventisesimo nel secondo tempo questa è sudata il quinto grado me lo vogliono fare proprio sudare ragazzi due a due va bene non fa niente riproviamo a passare in vantaggio Misaki palla per Olli ok mi va bene Olli tiriamolo un po' diamolo a Misaki va bene facciamo una tecnica da grado S su avviciniamoci a questa porta per bucare il suo portiere intanto finiscono anche il power shot coppia d'oro coppia d'oro vai vai ok allora coppia d'oro che parte si lui di tercetto non la prende è evidente questo ok va coppia d'oro in porto adesso la devo dare a rival però ragazzi adesso la devo dare a rival vediamo si carica il gioco la diamo a rival ok tiro del falco celeste rival vai per la tripletta dacci di nuovo il vantaggio partita emozionantissima ragazzi vediamo se questo gol entra sarebbe fondamentale contrasto della crisi a vuoto tiro di rival vediamo blocco in salto superato palla che si dirige verso la porta gentile superato lo dico prima scusatemi ma lo so ecco qua Hernandez momento decisivo della partita ragazzi per ripassare in vantaggio parato da una mano c25 gol 3 a 2 vai l'adensivo qua ci sta andiamo 3 a 2 ragazzi tripletta di rival rival caro 3 a 2 bellissima partita ragazzi questa sono felicissima di portarla sul mio canale questa partita spettacolare la quinta veramente equilibrata non è ancora finita ragazzi attenzione 3 a 2 dobbiamo mantenere il vantaggio andiamo a pressare allora ok c'è Diaz vediamo cosa dribbling di nuovo contrasto sì per forza ragazzi non penso che tira la ripesa sotto non la posso fare purtroppo ok contrasto di rival lui va al dribbling sudamericano vediamo se stavolta passa non passa sembra rival grande dai teniamola rival palla al piede rival la diamo a Santana perché rival è spompato è un po' tirare più Santana tiro aereo guidato così passa il tempo che deve passare ragazzi dai dai che ci siamo col quinto grado dai quinta partita quinto grado eh sì perché in effetti più o meno è quello ecco qui tiro guidato dorato di Santana sono curioso di vedere se entra adesso potrebbe anche entrare tecnicamente a vuoto holly a vuoto gentile vabbè lui come portina mi ha messo male un po' di stamina è attivato il powershot quindi non entra raga non entra parlate perfette addirittura eh sì beh giustamente siamo alla fine la inchioda lì vediamo un pochettino per la parata ma nel frattempo sta per finire il match ragazzi molto bella questa partita gentile è finita ragazzi manteniamo l'imbattibilità settimanale abbiamo vinto anche questa partita ma soffrendo moltissimo e vai come ne dico ragazzi sono orgoglioso di portare questa partita su youtube proprio è la più bella che ho fatto fino adesso molto equilibrata 3 a 2 eh sono contento ragazzi bella partita bella 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 ricordatevi che sono qui per tutto quello che vi serve sapere riguardo a Captain Tsubasa Dream Team ragazzi nei commenti stanno già leggendo in molti io sono qua ecco la promozione a quinto grado con Olli che alza la coppa bene ragazzi io vi saluto e arrivederci ai prossimi video di Captain Tsubasa Dream Team ciao ragazzi